Buongiorno, sono Marta Veghini, dottoranda del trentesimo ciclo in scienze giuridiche europee e internazionali. Sono una laureata nell'Ateneo Venonese e ho svolto un dottorato di ricerca in diritto romano e diritto civile. L'esperienza del dottorato e quindi della ricerca è un'esperienza complessa ma oltremodo stimolante. Ho avuto la possibilità di fare numerose esperienze all'estero, ho avuto la possibilità di conoscere ricercatori in Italia e nel resto del mondo. Ho avuto quindi la possibilità di sviluppare la mia persona sotto un profilo personale e professionale. Ritengo quindi che un investimento nella ricerca e nei giovani della ricerca sia fondamentale per un'apertura sia della società civile sia proprio del mondo accademico in termini di relazione e con il mondo evidentemente universitario prima ma poi della formazione post-dottorato. Sono appunto in consegna tesi e quindi mi auguro che quello che ho investito durante il periodo del dottorato possa ovviamente trovare compimento in un futuro appunto nella ricerca.